Entravamo e uscivamo dal fornello di casa, testimonianza di Anna Lucia Giordanengo, detta Liusota, nata alla frazione Montasso di Robilante, classe 1891, contadina. La mia frazione era di quattro case e tanti ciabotto sparsi attorno, ogni famiglia aveva la stalla e il casotte. Il casotte era l'essiccatoio delle castagne che serviva anche da cucina, una baita senza soffitto e senza camino. No, il soffitto veramente c'era, era fatto di rami intrecciati come una rete e sopra ci mettevamo le castagne a seccare, sul pavimento in terra del casotte accendevamo il fuoco, così il calore e il fumo seccavano le castagne. Nel pentolone della minestra cadevano i vermetti, non facevano mica schifo, era una cosa familiare. Ha mai sentito dire che i contadini una volta entravano e uscivano dal fornello di casa? Era proprio così, uscivamo dalla porta del casotte che funzionava anche da fornello, come si apriva la porta il fumo faceva puff. Nella nostra frazione c'era una sola famiglia che aveva una vera cucina, tutti gli altri vivevano nei casotte. La nostra vita, presso a poco come la vita dei nostri vecchi, al mattino presto un pugno di castagne e poi al pascolo. Alle otto si faceva la polenta che durava tutto il giorno, solo mio padre mangiava nel casotte, noi uscivamo fuori a turno perché i piatti erano pochi. Avevamo un po' di bosco, due vacche, un po' di latte e un po' di castagne. La meliga dovevamo già comprarla, tra vicini si andava d'accordo, la gente era come adesso, dei buoni e dei meno buoni, ma era più familiare. A 15 anni io, mio padre e un fratello, mio padre menava il carretto, siamo andati a piedi a castelletto stura, a spigolare, in pianura, a cogliere le spighe abbandonate e il raccolto era metà nostro e metà del padrone. In una dozzina di giorni abbiamo avuto di nostra parte sette mine a ciascuno di grano. Ogni mina era di 18 chili. Si cudiva tutto pur di rimediare qualche soldo. Dalla Valle Maira arrivavano i cavie, ossia i raccoglitori di capelli, i cavei grua, i cavei del pentu, i capelli del pettine, i capelli caduti, oppure le trecce, i capelli lunghi. Quattro volte li ho venduti i capelli lunghi e così le mie sorelle. Ce li rovesciavamo tutti davanti, tenendoli in pugno. Ce n'è già abbastanza, diceva nostra madre che tutelava i nostri interessi. Poi li rovesciavamo all'indietro e giù col taglio, lasciando una crestina in modo che la testa non restasse proprio pelata. La volta successiva, avevo poi già 15 anni, ho venduto due trecce lunghe un metro, proprio un metro misurato. Tanti capelli, tanta stoffa, o soldi o la vesta, ossia o i soldi o il taglio di un vestito. Ogni sera nelle stalle filavamo la canapa, la piantavamo noi la canapa e, come era matura, la mettevamo a marcire nell'acqua non fredda. Poi battevamo la fascinetta per fiaccarla, poi la breast chavu col pettine di ferro e ricavamo la rista. Le ragazze che dovevano imparare filavano le cuce, ossia lo scarto. Nelle stalle, intorno alla lanterna a petrolio, eravamo sempre sette, otto le donne che filavano. Alla vita portavamo una cintura e appeso alla cintura il pendulin, alcuni anelli di legno passanti l'uno dentro l'altro, a catena, in cui si infilava la rucca. Erano i giovani che partecipavano alla veglia, che con la punta del coltello fabbricavano il pendolino, i giovani che regalavano il pendolino alle ragazze. Filando mi son preparato il fardel, filando e ricavando. Avevo una dozzina e mezza di camicie di tela di casa e dieci paia di calze di lana e di cotone, tutte a mano. Ne ho ancora tre paia, nuove, nuovissime. La settimana prima dello sposalizio venivano la madre dello sposo e lo sposo a stimare il prezzo del corredo e nell'occasione si faceva una merenda tutti insieme. Si stimava ogni cosa, scrivendo tutto. Così, quando il padre moriva, chi aveva preso un po' di più, de fardel, prendeva meno di legittima. Si stimava anche la sposa, cioè la biancheria e il vestito che la sposa avrebbe indossato il giorno dello sposalizio. E la sposa, quanto la valutiamo? E si stimava il prezzo. A cerimonia finita, lo sposo tornava a casa, con il fardel. La terra era la roba più importante. Si divideva soltanto quando padre e madre erano morti. La guerra. Il mio sposo è andato al fronte. Sono rimasta qui, con quattro figli piccoli. Lavoravo come un uomo. Dalla montagna portavo giù i fagotti di fieno e attaccati alla sottana avevo sempre due bambini. Mi dicevo, non finirà mai più. Le mie gemelle, quando il mio uomo è partito per la guerra, avevano sette mesi. Quando l'hanno rivisto erano già alte, correvano già come farfalle e non l'hanno più riconosciuto. Nel 1921 mio marito aveva male a un ginocchio e non poteva andare in pianura a tagliare il grano. A piedi, da sola, sono scesa a valle. Sono andata a Torre Bava, sotto Cuneo, a fare la manuala, a spigolare. 15 giorni. Alla sera, avessi messo i miei vestiti in una bealera, era lo stesso. I mezzadri ci portavano da mangiare, dietro il ciabot, perché non perdessimo tempo. Finita la campagna del grano, ho chiesto che mi indicassero la via più breve per tornare a casa. Mi hanno detto, segui questa bealera e acqua del Vermenagna ti accompagnerà a casa. Le mie gemelle sono in Francia, sposatela. Anche i due figli sono in Francia, in campagna. La vita di oggi, oh, è cambiata in meglio. Ma noi siamo vecchi. Se fossi giovane vorrei stare a monte, la montagna. A me piace stare in montagna.